Ciao, sono Giovanni, la persona dietro la rubrica L'uomo che sussurrava alle cineprese. Ogni settimana vi presenterò un quesito sulle questioni più scottanti del cinema, da ciò che ci sta davanti a tutto ciò che sta dietro le quinte di un film. Non mancate! Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di L'uomo che sussurrava alle cineprese. Se settimana scorsa abbiamo visto quanto le case di produzione possano castrare un autore, tarpare le ali alla creatività ed in generale sterilizzare artisticamente un'opera, questa settimana parleremo di una casa di produzione indipendente che, negli ultimi anni, ha portato una ventata d'aria fresca al mondo del cinema e che, secondo me, sta salvando Hollywood dall'oblio totale a livello creativo, ossia la A24 o A24 se vogliamo dirla all'americana. Tutto è nato dalle menti da Daniel Katz, David Frankel e da John Hogg, che nel 2012 a New York fondano lo studio. Inizialmente nasce come un distributore di piccoli film indipendenti, il cui budget uscillava sempre tra i 3 e i 5 milioni di dollari e che presentassero degli elementi peculiari, dalla trama alla fotografia, fino a delle ottime performance attoriali. Anche in questo mondo c'è un po' di taglia, visto che per il nome si sono ispirati proprio all'autostrada A24 Roma-Teramo, su di cui Katz stava viaggiando quando decise di fondare l'azienda. Oltretutto è anche un po' una coincidenza, visto che questa autostrada comunque si è fatta notare nella storia del cinema italiano, visto che è scenario di molte piccole città abruzzesi, paesaggi rurali impiegati nei film dei neorealisti. La società ha iniziato la sua distribuzione di film nel 2013 e in pochissimi anni si è fatta notare a livello internazionale. La compagnia ha segnato la sua prima uscita teatrale con A Glimpse Inside the Mind of Charles I III di Roman Coppola, che ha avuto un rilascio limitatissimo, ma che è stato presentato in anteprima assoluta alla settima edizione del Festival del Cinema di Roma, ottenendo applausi da parte sia di pubblico che di critica. Sempre nel 2013 hanno anche distribuito Spring Breakers, una commedia centrata sullo Spring Break, la tradizionale settimana di vacanza che gli studenti americani hanno ad ogni inizio di primavera, che presenta una colonna sonora di tutto rispetto con artisti del calibro di Skrillex, Eld Golding, Rick Ross ed è stato persino in concorso alla mostra di Venezia. The Bling Ring, controverso film di Sofia Coppola con Emma Watson, che narra la vicenda di una banda di giovani raduncoli operanti nella zona di Los Angeles, che tra il 2008 e il 2009 compì numerosi furti, soprattutto in caso di personaggi dello spettacolo. Under the Skin, film con Scarlett Johansson, candidato BAFTA come miglior film britannico. Locke, stupendo film che mi sembra che abbiano appena messo su Amazon Prime Video, che vi consiglio di recuperare assolutamente. Film Contomardi, che è stato anche questo presentato fuori concorso alla mostra di Venezia. Enemy, che ha lanciato Denis Villeneuve, che è il regista di Arrival, dell'ultimo Blade Runner e adesso del nuovo film su Dune e con Jay Gillen, quindi direi che non c'è bisogno di altre presentazioni. E The Obvious Child, film presentato al Sundance. E pensate che questo è stato soltanto il loro primo anno. Nel corso degli anni la loro produzione è aumentata esponenzialmente, con un lavoro di produzione e di distribuzione dai 18 ai 20 film all'anno. Andando avanti abbiamo, per esempio, Giovanni si diventa, film di Noah Baumbach con Ben Stiller e Naomi Watts. Baumbach è il regista di Marriage Story, Story di un matrimonio, film che si è fatto notare molto l'anno scorso. Ex Machina, che è stato forse il loro primo grande successo, il loro grande colpo, che non solo ha lanciato il regista Alex Garland, che prima di allora aveva soltanto lavorato in veste di sceneggiatore in alcuni film come 28 giorni dopo, ma ha anche lanciato gli attori Alicia Vikander e Oscar Isaac. Alicia Vikander è, oltre a essere la fidanzata di Michael Fassbender, è anche l'attrice che qualche anno dopo avrebbe vinto l'Oscar per The Danish Girl. E Oscar Isaac è un attore che si vede spesso in giro, ha fatto su Barbie con il film di George Clooney e nella nuova trilogia di Star Wars, insomma, è un attore di un certo livello. E oltretutto questo è il loro primo film della A24 a ricevere delle nomination agli Oscar, visto che riceve la nomination per la migliore sceneggiatura. E vince anche l'Oscar per gli effetti speciali. Oltretutto questo film, per chi è interessato, è stato molto lodato da Gianni Canova, che è un grandissimo esperto di cinema italiano. Cosa riuscite a raccontare con mille parole? Avete il coraggio di misurarvi con un mondo che va di fretta ma ha fame di emozioni? Questo è l'incipit del concorso Blogami 2020, indetto dall'Associazione Culturale Senza Barcode. Un concorso per racconti brevi, minimo 900, massimo mille parole. Blogami è arrivato alla seconda edizione e quest'anno, grazie a CTL Editore Livorno, i racconti migliori saranno pubblicati in una raccolta. Le opere, al massimo due per partecipante, dovranno essere inedite. L'apertura del concorso è alla mezzanotte e un minuto del 25 febbraio. La chiusura è il 25 ottobre alle ore 23.59. Non è prevista alcuna tassa di lettura. Il concorso è gratuito per tutti gli iscritti a Senza Barcode. È possibile associarsi contestualmente all'invio delle opere in concorso. Per partecipare è sufficiente iscriversi visitando il sito associazione.senzabarcode.it. Per maggiori Andando avanti abbiamo The End of the Tour, film con Jesse Eisenberg, che è l'attore che ha interpretato Zuckerberg nel film di The Social Network, e Jason Segel, che è Marshall di I'll Make Your Mother, che racconta dello scrittore David Foster Wallace, la rock star della letteratura americana. Amy, che è un documentario su Amy Winehouse, che vince l'Oscar per il miglior documentario. The Lobster, il loro secondo grande successo, che lancia oltretutto il greco Yorgos Lanthimos, che ha fatto un altro film sempre per loro, ma che ha fatto anche la favorita, il film con Rachel Swayze e Emma Stone, che ha avuto un sacco di nomination agli Oscar. Film The Lobster con Colin Farren e Rachel Swayze, sempre, e che viene candidato all'Oscar per la sceneggiatura. Il loro terzo colpo è Room, che escono tutti, oltretutto grandi colpi che escono tutti quasi nello stesso anno. Room, che fa vincere l'Oscar l'attrice Brie Larson, questo dramma stupendo, anche questo mi sembra che qualche tempo fa era su Amazon Prime Video, mi sembra che però adesso l'hanno tolto. Un dramma profondissimo, fantastico, che ha lanciato appunto Brie Larson, anche l'attrice che adesso fa Capitan Marvel. The Witch, vabbè, direi che di The Witch ne abbiamo già parlato abbastanza nel podcast dedicato che vi consiglio di andarvi a recuperare. La Foresta dei Sogni, film di Guzban Sant con Matthew McGonaghy, che oltretutto compete per la Palma d'Oro al Festival di Cannes 2015. Swiss Army Man, poi, che questo film è fantastico perché è stato presentato da Sundance ed è forse il loro film più indipendente, più assurdo sopra le righe, che è con Daniel Radcliffe, oltretutto, attore che fa Harry Potter, che io vi dico soltanto che racconta di un cadavere, che è interpretato da Daniel Radcliffe, che viene utilizzato come sorta di coltellino svizzero, perché è multiuso, ha mille possibilità ad uso, non vi dico altro. Poi nel 2016 producono il loro primo film, che pensate è Moonlight, finché si è giudicato numerosi riconoscimenti, tra cui il premio a miglior film della National Society of Film Critics, che è la più prestigiosa associazione di critici americani, il Golden Globe per il miglior film drammatico e tre premi Oscar, fra cui miglior attore non protagonista, miglior sceneggiatura non originale e miglior film, che poi questo film nel corso degli anni è stato famoso, perché è stata quell'annata il 2016, no, il 2017, quando dissero che era la lenda di aver vinto miglior film e poi in realtà ha vinto questo Moonlight. Beh, pensate che è stato il loro primo film da produttori, perché prima di allora tutti i film che abbiamo detto fino ad ora li hanno soltanto distribuiti, guardandoli in vari festival o tramite delle proposte. Questo è il loro primo film prodotto e sono partiti col botto con miglior film all'Oscar. E andando avanti abbiamo una caterva di film, veramente, la loro produzione non finisce mai, sia per livello di quantità ma soprattutto di qualità. Abbiamo ad esempio Good Time, un film fantastico con Robert Pattinson, che adesso fortunatamente in questi anni sta facendo un sacco di belle produzioni. Un sogno chiamato Florida, film stupendo con Willem Dafoe, un dramma veramente bellissimo. Il Sacrificio del Cervo Sacro, sempre di Lantimos, con Colin Farrell e Nicole Kidman, che è stato anche presentato al Festival di Cannes dove ha vinto il Prix du Scenario. Lady Bird, anche questo probabilmente lo conoscerete, avete sentito parlare, è opera prima di Geta Gerwig, che è la stessa che ha diretto recentemente il film su Piccole Donne, che ai premi Oscar ha ottenuto cinque nomination, fra cui Miglior Film, Le Miglior Attrici e Protagoniste Non, Miglior Sceneggiatura e Miglior Regia, The Disaster Artist, che forse questo è il film più di nicchia che abbiano mai fatto ma è un film che i veri amanti del cinema hanno visto e che hanno amato, che è praticamente il racconto del making of del peggior film realizzato nella storia del cinema, che alcuni l'han definito il quarto potere dei film brutti, che è di Tommy Wiseau, che il film era The Room, questo The Disaster Artist con James Franco, bravissimo, che riesce a ricreare alla perfezione non solo il dialetto molto particolare ma anche le movenze di sto Tommy Wiseau, insomma un film bellissimo che anche questo è stato candidato all'Oscar per la sceneggiatura e che mi consiglio di vedere in lingua originale non perché il doppiaggio sia fatto male ma perché il lavoro di Franco è talmente assurdo a livello di, come dire, di pronunce eccetera che purtroppo di cose in doppiaggio veniva reso poco. First Reformed, un altro film bellissimo, stupendo, che mi sembra sia su Amazon, la maggior parte dei loro film sono su Amazon, forse Good Time è su Netflix. First Reformed, film con Ethan Hawke, bravissimo, ma Ethan Hawke non è un attore che mi fa impazzire ma in questo film ha fatto un lavoro splendido, che è stato candidato anche a questo film per la miglior sceneggiatura all'Oscar, poi abbiamo Out to Talk to Girl at Parties, che non so perché in italiano hanno voluto adattare con la ragazza del punk innamorato, vabbè, che il film è stato comunque presentato fuori concorso al Festival di Cannes e che in America soprattutto si è fatto molto notare, Ereditary Midsommar, anche questi ne abbiamo già parlato parlando di Ari Aster, e The Lighthouse che è finalmente uscito in Italia quando feci il primo podcast, forse è stato il mio primo secondo podcast dove avevo parlato di Ari Aster e Eggers, The Lighthouse non era ancora uscito, adesso è finalmente uscito in Italia qualche settimana fa, ovviamente un film meraviglioso, mi è piaciuto molto più di The Witch, è un film che non è un horror, io lo considero più un thriller psicologico assurdo, molto shakesperiano, con questa fotografia, con questa scenografia fantastica, con un Willem Dafoe e un Robert Pattinson veramente in forma smagliante, che è molto bello anche in italiano, è stato adattato benissimo in italiano, però anche questo vi consiglio di vederlo in lingua originale per gli accenti che hanno usato i due attori che sono bravissimi, Eighth Grade, che questo è su Netflix, è un bel film, un film di formazione che racconta il passaggio da in realtà la terza media al liceo, perché loro in America elementari e medie sono insieme, quindi lei come se stia facendo l'ottava elementare, però vabbè, da noi sarebbe la terza media e racconta quindi questo passaggio, che è anche un periodo di tempo, quello tra le media e il liceo, che non viene spesso raccontato nel cinema, quindi è sicuramente interessante, Mid90s, che questo non mi sembra che sia uscito in Italia, ma che segna il debutto alla regia di Jonah Hill, che ha ricevuto delle critiche assurde in senso positivo, è un film che ha ricevuto un sacco di ottime recensioni, The Farewell, ecco questo si è fatto notare soprattutto il Golden Globe, perché ha vinto non solo la migliore attrice in un film commedia, ma è stato anche candidato come miglior film in lingua straniera, The Last Black Man in San Francisco, grandissimo snobbato agli Oscar appena passati, che è stato anche prodotto da Brad Pitt, e infine Diamanti Grezzi, uscito su Netflix, anche questo snobbatissimo agli Oscar con un Adam Sandler in forma smagliante, un film un po' particolare, che si trova su Netflix, Netflix l'ha distribuito, ma è un film molto bello che a me è piaciuto tantissimo, però ripeto è molto particolare. E se questo non bastasse, nel 2015, quindi dopo pochissimi anni che hanno iniziato a distribuire i film, iniziano anche con i prodotti per la televisione, quello che vi segnale, il principale e che ha fatto più scalpore è stato Euphoria, serie televisiva con Zendaya, che in America è stata fatta, distribuita su HBO in Italia da Sky, con appunto Zendaya, che è stata anche apprezzata da Leonardo Di Caprio, l'ha detto in un'intervista, che è una serie televisiva da tipo dieci puntate che racconta vari temi, fa quella dipendenza, l'omosessualità eccetera, non racconta, ecco, tutto questo in maniera cruda e pesante come Requiem for a Dream, ma nemmeno in maniera troppo, come dire, sopra le righe come Trainspotting. È una buona via di mezzo, molto romantica, se vogliamo, molto introspettiva, ecco. Per alcuni forse è stata anche un po' troppo profumata come serie per il tema che tratta, ossia la dipendenza dalla droga, però secondo me è una serie di altissima qualità. E poi infine, per farvi capire a che punto siamo arrivati con questo studio, che ricordo è partito nel 2013 su un'autostrada italiana, adesso nel 2018 A24 e Apple hanno stretto una partnership in cui A24 produrrà una serie di film originali proprio per Apple. Poi vabbè, ok, è importante che, questa è una cosa molto importante, che non è un accordo di prima visione, cioè nel senso che A24 può continuare a produrre e acquisire film da distribuire anche al di fuori dell'accordo e quindi questo non va ad influire su vari accordi precedenti. Ora, non ho fatto la media dei voti che hanno preso i vari film, però comunque fidatevi di me, cioè adesso se vi siete segnati alcuni film che vi ho presentato in questa lunghissima rassegna e spero che non sia diventato un elenco della spesa, ma più che altro perché nell'articolo, che mi invito a leggere sul sito, ho cercato di parlare più a livello generale, come a livello stilistico funzionino i film della A24 e di come siano forse i primi, il primo studio ad avere una fanbase così salda, perché alcune scelte stilistiche fatte sono veramente incredibili da parte di questi ragazzi qui, ma in questo podcast ho cercato più che altro di consigliarvi alcuni film da vedere, non solo in questo periodo se non sapete bene che cosa fare, guardatevi questi film perché appunto molti sono sui vari servizi in streaming, ma soprattutto per farvi capire quanti film di qualità producono, perché sicuramente qualcuno di questi che vi ho appena citato l'avrete visto e sicuramente vi avrà lasciato qualcosa, che sia in positivo o in negativo, ma qualcosa vi avrà lasciato. Poi è in dubbia la qualità tecnica che hanno tutti i loro film, che li abbiano prodotti o distribuiti. Poi possono piacere o meno, ci sono alcuni film che vi ho elencato che non mi hanno fatto impazzire, ma che comunque ho apprezzato non solo le intenzioni che ci stanno dietro, ma anche il lavoro tecnico che è stato svolto. Detto questo io vi ringrazio per l'attenzione, settimana prossima parleremo di film comici e parleremo sia dei nuovi film comici che dei vecchi film comici, di come la commedia si sia evoluta negli anni, quindi insomma è un argomento abbastanza leggero, un po' più frizzantino. Detto questo, appunto, io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo settimana prossima. Ciao a tutti! Ciao, sono Giovanni, la persona dietro la rubrica L'uomo che si trovava alle cineprese. Ogni settimana vi presenterò un quesito sulle questioni più scottanti del cinema, da ciò che ci sta davanti a tutto ciò che sta dietro le quinte di un film. Non mancate! Grazie!